Valentina Righetti, Capitano Azzurra a Catania, vicino a un carrettino tipico siciliano. L'Italia è arrivata fino a qui e ci è arrivata bene e adesso deve giocare queste tre partite per prendere i biglietti per andare negli Stati Uniti. Sì, sicuramente è una tappa decisiva e fortunatamente ce la giochiamo in casa. Lui si sta benissimo, quindi le condizioni sono assolutamente le migliori per fare quei punti che ci mancano per andare in Nebraska. Quindi staremo a vedere. Com'è andata questo Grand Prix? Il primo tuo da Capitana? Credo che indipendentemente dal mio ruolo di Capitano, in questo Grand Prix stia andando bene, forse anche oltre le aspettative e quindi speriamo che l'esperienza fatta con queste due tappe ci aiuti a completare l'opera questa settimana. Ecco, era una squadra che è partita con qualche incognita, con delle novità, con delle giovanissime, mi sembra che però abbia trovato una sua quadratura. Sì, assolutamente. Credo che ogni scommessa abbia dato una risposta più che positiva e questo è senz'altro un segnale importante. Per te è stato un rientro a casa, venivi da una stagione all'estero e invece sei rientrata in nazionale e tornerai a giocare in campionato in Italia. Sei contenta? Sì, sono molto contenta. È stata una scelta fortemente voluta, nonostante la mia esperienza all'estero sia stata più che positiva. Sono contentissima di rientrare e anche se per il momento sono concentrata sui colori azzurri, e quindi un piccolo pensiero va comunque alla stagione che inizierà a ottobre.